mette siamo qui presenti con andrea c'è andrea andrea non c'è ci sei allora vediamo se ci siamo allora vediamo se vediamo tutto come si deve sì mi pare che ci siamo allora eccoci qua allora quest'oggi procediamo con la creazione delle squadre per il campionato vtcc che abbiamo organizzato con andrea per sim drivers e come procederemo abbiamo creato tre gruppi distinti e separati per creare appunto le squadre da tre primo gruppo qua vedete sulla sinistra frigerio bojan scortese vero montrugoli rollo miceli gruppo 2 balocchi boscarini ct rodano rosini sciotti massafra gruppo 3 lezzi provazza zanelli lonano de ambrogio molica e dell'ernia allora molto semplicemente ho già impostato su questi siti ad estrazione bia.it praticamente il generatore di lista casuale appunto per il primo gruppo questo qua dall 1 al 7 dall 8 al 14 per il secondo dal 15 al 21 e poi il terzo per la scelta del tipo di auto che verrà assegnata all'auto alla squadra ovviamente se il numero è già riestratto farò torno indietro e farò estrai finché non uscirà il numero non ancora estratto che verrò ad aggiornare qui in questa lista qua per poi andare a comporre il team in funzione del numero assegnato al pilota d'accordo se non avete capito non importa io e andrea abbiamo capito quindi procediamo alla prima estrazione del primo gruppo e abbiamo il numero 5 per la squadra a quindi andiamo secondo gruppo numero 8 per la squadra per la sempre la squadra a e gruppo 3 estrazione numero 15 quindi abbiamo già la prima squadra che poi andremo a vedere insieme andrea d'accordo torniamo indietro gruppo 1 estrai numero 6 eccolo qua poi gruppo 2 sempre a estrazione lotto di nuovo quindi riestraggo 11 quindi gruppo 3 torno indietro estrai gruppo numero 21 seconda squadra fatta e ritorniamo per la squadra c torniamo indietro estrai numero 3 che non è stato estratto eccolo qua quindi riestraggo per il gruppo 2 numero 11 già fatto accidenti questo estrattore 14 quindi andiamo gruppo 3 sarà tutto così eh ragazzi eh vabbè ma così almeno abbiamo la testimonianza che lo stiamo facendo live il 20 quindi squadra di abbiamo primo gruppo estrai numero 6 ancora se non sbaglio è uscito numero 5 è uscito 6 è uscito ma niente non ci vuole aiutare 7 eccolo qua poi abbiamo gruppo 2 poi abbiamo gruppo 2 tono indietro estrai 12 gruppo 3 19 quindi primo gruppo eccolo qua 4 quindi secondo gruppo 11 è uscito 13 quindi terzo gruppo 20 mi pare che sia uscito 21 mi pare che sia uscito sì 19 è uscito va bene 21 è uscito 18 e poi eh 3 4 5 6 7 rimane l'uno il due quindi andiamo qui e facciamo dall'uno al due perché sennò non ci sbrighiamo un po' più quindi uno qui e ovviamente qua sarà due qua rimane eh 12 11 12 13 9 e 15 rimane quindi faccio eh 9 15 no che cosa è rimasto che cosa è rimasto ho sbagliato 8 9 10 mi sono perso 8 ah il 9 e il 10 rimane scusami il 9 e il 10 estrai il 10 e quindi il 9 e poi ultimo gruppo rimane il 16 e 17 quindi così non perdiamo tempo 16 e 17 estrai 17 e 18 bene bene allora adesso facciamo l'estrazione delle auto da 1 a 3 per sapere per la prima squadra quindi 1 per la seconda squadra quindi 1 per la seconda squadra 3 per la terza squadra 2 sapendo che ci sono 2 civic 3 elise e 2 cruisa quindi eh praticamente per la civic ce n'è già 1 1 e 1 perfetto la 1 c'è ancora disponibile 1 la 3 perfetto quindi la 3 finito la 1 la 1 finito quindi saranno 2 e 2 per forza ecco qua allora le estrazioni sono finite e possiamo andare a comporre se vuoi Andrea i team ah aspetta che William mi dice che ci sono 2 18 aspetta un attimo come ci sono 2 18 18 18 18 ah si giusto hai ragione allora primo 18 allora questo è il 16 grazie William mi sono sbagliato a digitare era 16 non era dicendo grande William mamma mia che occhio ragazzi che occhio allora composizione delle squadre ragazzi quello possiamo fare ci abbiamo i numeri d'accordo allora squadra a eh cristian montrucoli gruppo b 8 sarebbe andrea balocchi eccolo qua online e con gabriele lezzi eccolo qua del gruppo quindi questa squadra a squadra b 6 marco rollo 11 salvatore rodano e 21 21 Dario dell'ernia eccolo qua non conosco Dario dell'ernia però mi sembra che i primi due comunque primi due marco rollo e salvatore rodano eh si allora poi Gianluigi cortese per il gruppo gruppo c 14 Quirico Massafra Massafra e 20 Mattia Molica che non conosciamo sono dei nuovi però non conosciamo però i primi due si eh penso che questi qua siano belli forti eh belli forti poi abbiamo Fabrizio Micelli ahia con Maurizio Rosini ah ah interessante e 19 Nanni De Ambrogio eccolo qua bella squadra anche questa a quattro William Vero che ci sta seguendo parto con due punti in più perché ah 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 grande William eh con Pino Sciotti William Vero e il numero 18 Vincenzo Lonano anche lui nuovo iscritto della comunità di SimDrivers poi abbiamo Francesco Friggerio insieme a Ramonciti ragazzi di squadrone ciao e Andrea Zanelli attenzione qua ciaone ragazzi mamma mia lo squadrone già qua tra i primi li conosciamo già poi c'è Boyos Marco poi poi Sandro Boscarina attenzione qua sono tanti punti eh che portano a casa questi e Peppe Proazza il mio amico eccolo qua Giuseppe Proazza allora abbiamo le squadre ben definite adesso andiamo a vedere quali sono le auto allora abbiamo per la squadra Montrugoli Balocchi Lezzi Civic cruise quella che non volevi tu eh perfetto c elizè ah anch'io c'ho la Civic vedi Civic ah ok c elizè per per William vero e c elizè per frigerio e Marco Antoine Boyons eh finita qua ragazzi già il campionato campionato deciso però 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 tutto è possibile eh tutto è possibile non si sa mai le piste sono quelle che sono eh eh allora per quanto riguarda invece la scelta delle skin questo eh ci metteremo d'accordo eh con i capi squadra che diciamo saranno eh i quelli del primo gruppo Montrugoli Rollo Cortese Micheli Vero Frigerio e Marco Antoine quindi abbiamo le auto abbiamo le squadre ragazzi io insieme a Andrea vi ringraziamo per averci seguito in questi pochi minuti per la creazione di queste squadre Andrea eh discuteremo dopo e niente un abbraccio a tutti ci vediamo prestissimo vi ricordo che la prima gara è il 9 9 settimana prossima e sabato c'è anche la gara delle ladies non la partita alle 17 un abbraccio a tutti ciao